Serata fredda al Partenio Lombardi di Avellino con presenza di neve a bordo campo. Il terreno insintetico si presenta in ottime condizioni nonostante l'umidità ed il gelo della serata irpina. Marchionni a sorpresa lascia Michele Rocca in panchina maschiera dal primo minuto Alessio Curcio e Lorenzo del Prete. Confermato Biagio Morrone a centro campo e rientra Simone Dell'Agnello che si riprende una maglia da titolare nell'attacco rosso-nero. Confermato Galeota Fiore in difesa dopo la bella prestazione di sabato con il Catanzaro. Nell'avellino di Piero Braglia in attacco la coppia Fella-Maniero in un 3-5-2 ben collaudato e che sta dando ottimi risultati in termini di classifica. Con i bianco-verdi secondi dietro la Ternana, arbitro della gara il signor Marco Dascanio della sezione di Ancona. Con le immagini partiamo subito, decimo minuto, Maniero entra in area fintando il tiro ma al momento di concludere si fa anticipare da Di Stasio providenziale in uscita. Con le immagini ancora dovremo essere al minuto 11 il primo gol dell'avellino. Eccolo qui il colpo di testa di Maniero che colpisce, palla che viene toccata da Di Stasio sotto la traversa e Del Prete rinvia sui piedi di Carriero. Che calcia a rete e serve Fella che da due passi infila la rete foggiana per il gol del vantaggio. Tra un po' rivedremo anche il replay, la grande deviazione di Di Stasio sulla traversa che fa gridare al gol l'avellino. Vedete la deviazione di Di Stasio, Del Prete che rinvia la sfera che arriva sui piedi di Carriero. Palla a Fella che tutto solo da due passi infila Di Stasio. 1-0 per l'avellino che sblocca il risultato subito, ma Avellino che aveva già schiacciato da inizio match i rossoneri nella propria area. Con le immagini ancora al 14esimo la conclusione di Carriero dalla distanza, palla alta sulla traversa. Ancora Avellino che si fa minaccioso, ma è il Foggia al 15esimo a mettere il naso fuori dall'area. Di Enno dalla sinistra che converge in area dove Tito per evitare l'intervento di Calombo chiama forte al miracolo sulla linea per evitare un sicuro autogol. 18esimo, eccola qui l'occasione del raddoppio. L'episodio del raddoppio di Maniero che approfitta della posizione di Di Stasio fuori dai pali. Calcia dalla distanza, la palla supera il portiere rossonero che nel tentativo di svanacciare la conclusione dell'attaccante bianco-verde spinge la sfera in fondo alla rete. Sfortunata la serata di Di Stasio al rientro in maglia rossonera. Rivedete l'errore di Vitale che perde palla, Maniero approfitta della posizione sbagliata di Di Stasio tra i pali e lo beffa con un pallonetto. Goffo anche l'intervento del portiere del Foggia nel tentativo di smanacciare la palla che invece lo supera e finisce in fondo al sacco. Minuto 18 ed il Foggia è già sotto di due reti. Si fa sicuramente in discesa la gara per l'Avellino. Avellino che invece al minuto 35 va vicinissimo alla terza rete. Un errore di Galeota Fiore che perde palla al centrocampo. Tito si invola sulla sinistra andando a servire Fella che tutto solo in area manda clamorosamente al lato della porta di Di Stasio tra la disperazione anche di Piero Braglia. 45esimo è appena iniziato il secondo tempo con il Foggia che presenta due novità Garofalo e Rocca in campo per Salvi e Vitale. Calombò in area viene a contatto con Forte e va a terra. Proteste dei rossoneri che chiedevano un calcio di rigore per il presunto fallo ma non è così per il direttore di gara. che va ad ammonire anche Marchionni per proteste. Minuto 48 c'è un calcio di punizione per l'Avellino che probabilmente non c'era perché Gavazzi non interviene. La punizione di Tito dalla destra è Fella tutto solo in area indisturbato fulmina di Stasio. Tra un po' rivedrete anche la punizione di Tito dalla destra, la perfetta pennellata del difensore biancoverde. Vedete Fella che supera Di Enno e praticamente solo davanti a Di Stasio lo trafigge per la terza volta. 3 a 0 il risultato dopo 48 minuti di gara. Corre ai ripari anche Braglia che al 52esimo manda in campo D'Angelo e Aloi per Carriero e Ciancio. Navellino al 54esimo, uno scambio veloce, Tito D'Angelo e palla al lato della porta di Di Stasio. Un'altra conclusione dei padroni di casa, padroni sicuramente del campo e della partita. Settantesimo, al settantesimo è bravo Di Stasio a deviare sui piedi di D'Angelo da ottima posizione. D'Angelo che si presenta davanti a Di Stasio ed è bravo il portierino rossonero a deviare la conclusione del calciatore in maglia biancoverde. Ancora settantaduesimo e ancora il portiere rossonero a evitare danni. Ancora il portiere rossonero diceva ad alzare sulla traversa una conclusione di un calciatore di Lavellino. E qui il gol, il quarto gol dell'Avellino è Di Francesco che da limite indovina l'angolo e beffa Di Stasio per la quarta volta. Vedete la perfetta conclusione di Di Francesco, non ottimale l'intervento di Di Stasio che si fa beffare. 4-0 per Lavellino al minuto 73. Partita sicuramente negativa quella dei rossoneri che all'ottantunesimo rischiano di prendere anche il quinto gol. Bernardotto si invola sulla fascia di destra, crossa al centro dove Santaniello in diagonale manca il quinto gol di un soffio. Santaniello che tra l'altro era anche infortunato da qualche minuto in campo e che indovina un diagonale che per poco non sorprende Di Stasio. Al novantatreesimo dopo tre minuti di recupero il direttore di gara, il signor Dascanio, manda le squadre negli spogliatoi. Termina 4-0 per Lavellino la serata del Partenio. Il più brutto Foggia di questa stagione cede le armi al più forte Lavellino che inanella la settima vittoria delle ultime nove gare di campionato. Seconda sconfitta di fila per i rossoneri che preoccupa soprattutto per il modo in cui è maturata.